In una fase successiva, ad informarci è sempre Tucidide. Allora, Tucidide ci informa sulla presa di Zanchi da parte di Anassila. Non sappiamo quando avvenne di preciso, però credo che il terminus post quem, di questo evento storico, dovrebbe essere la morte di Ippocrate di Gela. Quindi se ci fosse finché c'è stato Ippocrate, Anassila non è riuscita a conquistare Zanchi. Quindi la data di morte di Ippocrate di Gela è il 489 a.C. Quindi consideriamo terminus post quem, per l'occupazione di Zanchle, la data di Anassila, quindi questa data è il 489. Con l'occupazione di Zanchle, con Oninza la scaccia questo gruppo di esuisabi, come affermerebbe Tucidide, e colonizza la città con uomini di provenienza mista. Quindi inserisce una componente dolica nella città messenica. Quindi questi neopolitari che lui introduce sono dei doli, non una componente dolica, e muta il nome della città da Zanchle in Messene, il ricordo della sua antica patria. Allora, così che succede? Riunisce sotto un unico dominio le due città di Region e di Messene, di Zanchle, che ora è divenuta appunto Messene, perché è stata ripattezzata con il nome di Messene, e diventa praticamente il padrone del regno dello stretto. È il primo fautore, il primo creatore del progetto dell'area metropolitana dello stretto. Allora, a documentare questa rivalità tra le due città, poco prima della conquista, sono queste iscrizioni epigrafiche provenienti da Olimpia, sono delle iscrizioni, una compare su uno schiniero di bronzo, riveuta a Olimpia, risalvano alla fine del sesto e inizio del quinto secolo a.C., dove leggiamo Danclaioi Reginon, cioè gli Zanclei, sottinteso dal bottino dei regini. Quindi il nome dei vincitori compare in nominativo, mentre in genitivo plurale compare il nome degli sconfitti. E così anche l'elmo calcidese e il corinzio calcidese, che vedete sulla destra, abbiamo un'iscrizione di, quindi a Zeus, i regini dal bottino dei geloi. Quindi questa sarebbe la prova evidente, potrebbe essere una prova evidente, che Anastila riesce a strappare Zanclaioi ai geloi. Le due città espressero la loro, diciamo, unione attraverso queste emissioni monetari che vedete. Allora, sono delle emissioni monetari coniate durante la tirania di Anastila, che hanno la stessa iconografia, quindi al diritto e al rovescio, ma quello che cambia è la leggenda. Quindi il che testimoni, sempre coniate con sistema tonderale calcidese, e dal 489 anche la zecca di Messene, con i amvesti esemplari monetari, con la leggenda, appunto, Messenium. È importante il dato logismatico, anche in questo caso, anzi è sempre importante, ma in questo caso ancora di più, perché questo ci metterebbe in guardia da un'ipotesi di siunfoliteia, cioè di fusione dei due centri dello stretto, in quanto il centro di Messene, dopo l'occupazione di Anastila, mantiene la propria autonomia. È prova concreta e evidente di queste che ha una zecca, quindi che batte moneta, che conia moneta. Allora, l'assunzione della tirannide da parte di Anastila e la creazione di questo regno dello stretto non cambia, non muta i circuiti commerciali precedenti all'installazione della tirannide, perché queste iconografie monetari riscontrano, cioè queste iconografie hanno delle affinità iconografiche con dei centri che già sotto il governo dei Mille, in precedenza, erano già collegati all'area dello stretto, come per esempio Samo, o lo possiamo vedere anche nella monetazione di Lesimo Mitilene, compare l'iconografia del leone, dello scappo di leone, della testa di leone, come nelle monete appunto coniate da Anastila. E poi un'altra caratteristica di questa moneta è che ha una diffusione ad ampio raggio, quindi non solo la troviamo a Samo Mitilene, ma anche compare in dei tesoretti con leggenda Messenion, sono stati rinvenuti in Egitto e nell'impero persiano, quindi è una circolazione, questa all'argoraggio della moneta, che collega lo stretto con i grandi circuiti commerciali dell'epoca del Mediterraneo. Le iconografie utilizzate da Anastila sono di forte impatto mediatico. Allora, la testa di leone, che compare al diritto, è un attributo felino di Apollo Helios. Finora abbiamo esaminato le iconografie, ora vediamo dal punto di vista iconologico, quindi la testa di leone è attributo felino di Apollo Helios. L'inità di Apollo Helios era venerata dagli abitanti dello stretto. Pausania, nel libro V, in un suo passo, ricorda come in occasione di una festività, veniva in primavera, 35 epaides, un auletes e un didascalos, venivano inviati da Messene a Region in occasione proprio della divinità solare. Quindi la testa di leone è attributo felino di Apollo Helios. Per quanto riguarda invece l'immagine di Rovesh, vedete una protome di Vitello, che compare anche nella monetazione di alcune monete di Mitilene. Questa zona è collegata all'ambiente ionico, come abbiamo visto. Infatti non a caso abbiamo i contatti tra Anastila e questi esurisami, come abbiamo visto in precedenza. Quindi dicevamo, la protome di Vitello è veramente un'iconografia di forte impatto mediatico, perché consente al Tirano di vantare un doppio dominio. Quindi sull'Italia, che è l'estrema propaggine, quella meridionale della Calabria, che va dall'istimo scilletico impugnante fino proprio alla punta estrema, al Reggio, del resto nella tradizione antica, l'Italia deriva dal termine Vitulia, quindi terra dei Vituli, quindi non è un caso in riferimento al Vitello. E poi il Vitello è anche simbolo della Trinaglia, che è la cuspide nord-orientale della Sicilia. E in Omero questa convinzione era ben presente. Infatti io ho strappolato alcuni passi dell'Odissena, dove proprio in questa zona viene ambientato proprio nella Trinaglia l'episodio delle vacche, dei compagni di Ulisse, che mangiano le vacche sacre al sole imperione. E poi vengono puniti. E qui ci sono dei riferimenti che potrebbero, comunque, ci sono dei riferimenti che potrebbero essere dei riferimenti alle acque dello stretto di Messina. Perché qui parla Omero di mare viola, poi di porto profondo, quindi ancora in un porto profondo la nave è ben costruita. Infatti lo stretto di Messina si distingue proprio per... è caratterizzato da acque molto, molto profonde. Un'altra discussione che nasce nell'affrontare l'argomento Anassila è, siccome sappiamo da Dionigi di Ricarnasso che il governo al Reggio viene lasciato la reggenza al figlio Leofrone, Anassila probabilmente si insedia a Messene, ma non sappiamo con quale carica. Quindi abbiamo ipotizzato prima quindi un esercizio di una magistratura a valenza militare, ma egli esercizò forse una sorta di epimeleia, cioè di protettorato sulla città peroritana, quindi dello stretto. E non sappiamo di preciso quale fossero le istituzioni di Zancre al tempo di Anassila. La politica di Anassila espansionistica nei primi decenni del V secolo a.C. si concentra soprattutto sul Tirreno. Quindi come abbiamo visto abbiamo l'occupazione di Zancre ed è rivolta all'occupazione dei principali porti, i principali scali commerciali. E probabilmente nel 488 a.C., secondo la studiosa Desensi Sestito, che si data l'attacco a Locri per il possesso della città di Metauros. Le convinzioni di questa studiosa della Desensi Sestito si basano soprattutto